Io sono Paolo, vengo dalla Calabria e sono qua per la conferenza sul futuro dell'Europa. Ho 17 anni, frequento l'ultimo anno di un liceo scientifico e sono qua per proporre, per dare idee, per confrontarmi con altri cittadini europei e sapere davvero venire a conoscenza più che altro di qual è l'essenza della politica europea. Quali sono le proposte per cui si batterà, quali sono le cose che più ti interessano in questi giorni? Allora, le tematiche che ho trovato più interessanti sono quelle che riguardano sicuramente i diritti in generale. Ad esempio possono essere le leggi diverse, le diverse culture, ma anche le diverse, come stavo dicendo, le leggi all'interno dei diversi paesi dell'Europa che non vanno ad uniformare la cultura. Ma diciamo, a creare una diversità in Europa, perché proprio grazie a questa diversità creare una cultura che possa essere effettività europea. È una cosa che mi interessa molto.